signori miei benvenuti bentornati siamo tornati che è successo siamo tornati su dragon ball z vai verso casa di gohan dalla mappa del mondo hai sbloccato le montagne del sud perché sta roba si muove o forse siamo dritti sud orientale ha sbloccato le pianure centrali devo andare qua verso casa di goku ossia di gohan mi sono disattivare momentaneamente le notifiche dall apple batte già stavano scappando da piccolo perché da junior perché lui voleva che mangiavamo e ci allenavamo invece noi siamo scappati cosa che non farà piacere per nulla a piccolo l'indicatore di ossigeno quando ti immergi raccolgo medaglia di ok tanto da qualsiasi non ci può prendere andaga andaga ok c'era alto da sfidare qua mi sembra di 9 ero mi sembra di no va bene ok dai ma kanko sapò eh sono fortini questi qua eh eh beh 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 ah la a posto facile easy easy l'ho fatto soprattutto per le sfere andiamo verso casa amici verso casa in maniera rapida cerchiamo sempre però di dare un'occhiata in giro eh perché potremmo trovare qualcosa di interessante un po' di carne di lupo sotto quell'albero non ci interessa siamo arrivati sono proprio contento avanzamento rapido c'è il gattino la come si ehm scusate un po' di tosse oggi se mi per mio papà ma da quando parla questo qua non me lo ricordo mica no mai zio ma ci sta ci sta ehm provando un piatto per Yamcha ma questo trovo evidentemente migliore sarà migliore mi sembra ancora delle cosette certo ciao vai vai il gatto Antaro chiederemo la mia compagnia della carne adesso ci sarà piccolo no e invece no sono cattivi questi eh sono anche grossi cioè grossi gli avversari più ostici chiamati nemici pericolosi hanno delle inquietanti aure scarlatte sono molto più potenti nell'aniversario affrontali a tuo rischio e pericolo qua mi obblighi ce la faccio ce la faccio mannaggia la patata mannaggia la patata mannaggia la patata è andato mostro mostro ehm guarda quante sfere quante sfere mannaggia la patata siamo già preparati li abbiamo sciolti pezza carabiniere ehm ehm lo so ehm lo so ehm 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 speciali rari ma mannaggia sconfiggio amici pericolosi ne appelleranno nuove ancora più potenti ehm siamo saliti siamo forse saliti senza fretta bomber ehm ehm quando ho quelli dintorni mentre gli attacchi si ora attacchi no problem senza problemi avete visto ehm pa 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 è pieno di queste urne maledette ehm ma questo non è forte ehm è andato e due è andato facili adesso easy easy no problem nel secondaria voglio solo provare a vedere cosa succede scusa scusa non ho capito mi fa parlare così è brucio ma tutto bene signora si l'anzia donna è stato attaccato col sistema si vabbè dai ci da ci da qualcosa in teoria quindi facciamolo facciamolo non dovremmo avere fretta cioè non dovremmo metterci più più di tanto ok 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 e quello è sciolto è andata facile easy guarda comunque fortino eh ce le ha delle ha dei colpi interessanti devo dire ha dei colpi interessanti ok 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 queste cose si deve andare a noi non ce ne frega una banana dai 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 ah questa qua è rapida storia completata interessante esperienza 141 rivista per adulti pazzesca 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 allora andiamo un secondo allora andiamo un secondo allora facciamo così personaggi gohan non ho altro vero no ok vediamo se posso potenziare qualcosa posso sì ah lui vuole le sfere blu non le verdi ok io volevo oggetti come già che faceva dargli ste schifezze comunità ma che comunità eh sui piatti non c'è nessun altro che può lui è bravino nei piatti eh mi sembra tre però no lui è forte non serve a niente ok va bene su gohan dettaglio emblema radoni perfetto volevo dargli le proteine volevo potenziarlo ancora un po' al massimo almeno vedete il 60 lì volevo dargli qualcosa in più fammi raggiungere così me lo sblocca qualcosa ok l'ha preso sfera arcobalene interessante ora andiamo su invece su piccolo perché anche a lui servirà una rivista per adulti pazzesca e direi basta ora ci facciamo la nostra bellissima cosa la cosa rossa ok ci stiamo dentro ci sono tante cose da fare qua eh ragazzi si comincia però si vabbè però piccolo no 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 nel no e e Ah ho sbagliato Potenziato che culo Madonna, ma se posso, no ho sbagliato Masego non posso, Masego Caricalo Oh, ci sto prendendo questo, eh Yes Beh, beh, ci sto cominciando a prendere la mano, eh amici Ci sto cominciando a prendere, aumento di livello, eh Ci sto davvero cominciando a prendere la mano, sta diventando molto divertente Gohan Gohan Beh, io non avevo la spada Io non vedo l'ora di usare Trunks con la spada Ehm, io non vedo l'ora di usare Trunks con la spada Ehm, io non vedo l'ora di usare Trunks con la spada E voilà SS è facile in questi casi, ovviamente Però stiamo parlando sempre S, eh, questo vuol dire qualcosa Tesso sacro Poi potenziamo qualcuno qua È trascorso un altro tempo, il giorno della riva di Serena si avvicina sempre di più E qua invece abbiamo Goku Che sta cercando di imparare il Kaioken Il Ganero sta arrivando Domani sei anni è arrivato sulla terra Domani? Che è successo? Eh già E Dio al termine di far desistare il professore del Draco Veloce Veloce Goku C'è il naso da soffiare, Gesù Cristo Vai, bomber, vai Abbiamo anche il Kaioken, il Kaioken Se le anni arrivano E così giusto il giorno fatico Questa è una bella Begli episodi, eh Qua 143.000 O 14 Scusate, che livello è Goku? Al 70 adesso di me è arrivato A terra Cominciano a spaccare tutto Mi nappa c'è dei polpacci devastanti, eh La battaglia contro i due Saiyan Non vedevo l'ora che arrivasse questo appuntamento qua Eh, signori Così questa è la terra Mega male Hai capito il sì Che dice da un saluto a questo spazzatura? Poverini noi Anche meno Anche meno Trovato Però adesso abbiamo Kaioken Espe di Gohan Espe Piccolo Espe di Veloki Yes Yes Che carino Dai Cioè siamo Cioè siamo Krili Gohan E Piccolo Contro Nappa E Vegeta Non so se è chiaro Che Sono fortini, eh Soprattutto Vegeta Il principe dei Saiyan, eh E' Attenzione Soda? Soda? Deve essere soda la cosa Ciao Ponti Che cosa è sta roba già? Ah già Quelle foto porcherie Dai che siamo tutti completi Poche chiacchiere Dai Lui è come una geisha in miniatura Devo far fuori i piccoletti Spesso è io piccolo Pekalow Dai Non ho paura di che quattro sfigatelli Pekalow 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 Eeeh la madonna Ma Cristo Ma qualcuna E' uno E' uno Ma Madonna Madonna Raga Ma questi lag sono infami eh mi stanno facendo un culo ma non riesce più la secco? ho preso eh ce l'ho fatta capiccio mostro mostro S mostro mostro Gohan non c'erano anche quelli grossi palestratissimi io mi ricordo che nel in Budokka Tengg C3 potevi trasformarsi tipo Vegee non Vegee potevi scegliere tu di diventare Super Saiyan quando vuoi bravissimo bravissimo ah però mi sembra che che si attacca e lo fa saltare in aria eh me lo ricordavo che lo uccidevano dai bro dai piccolo posso usare piccolo che è molto più forte di gol ok poca vita eh lui ha un bordello di vita via 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 lo sapevo che prendeva solo me si vabbè ragazzi non è possibile porca di una porca finito è troppo forte ragazzi non ce la possiamo fare ma se è in co che altra roba ah c'è l'energeti da lui ho sbagliato triangolo allora premi lb per rb quando hai indicato ti supporti tutti gli eletti prima per attivare un attacco simultaneo forse c'era 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 vai zio e dovrebbe togliere abbastanza sta roba qua non abbiamo fatto niente prego oh yes mi ha sciolto mi ha sciolto oh no ma non è già un attacco di culo era morto ho tenuto una sono aumentato di livello siamo aumentati tutti di livello a livello 9 che non è male devo dire non è male e loro a livello 11 ci davano una piazza e mezza sto guardando che questa batteria la batteria un po tarocca della gopro oh signor si scarica in maniera devastante una delle scene più triste una delle scene più triste che possa che si è mai vista però mi ricordo che in realtà non muore Nappa eh mi ricordavo dai dai dancing che scene devastante scende devastanti ragazzi donna ragazzi il doppiaggio è formidabile eh effettivamente lui ha un buon ragionamento ma c'è a dire che noi ci siamo molto allenati eh muto muto eh ombre però non ci hanno fatto usare piccolo certo che arriva Dio 3 giorni? 3 giorni? 3 giorni? 1 giorni? 3 giorni? 4 giorni? 4 giorni? parla con tutti per capire come vediamo un po' Gohan è a livello 9 oh già non può morire come avete capito appunto se muore tre ore erano quasi le scorse ma Goku non era ancora sulla terra continuo a aspettare vuoi proseguire la storia sì tanto non abbiamo niente da potenziare non c'è niente di interessante certo da Goku le cose di Goku dovrei potenziarle con le sfere azzurre, blu, box però ormai 5.000 so iscrivetevi a farlo ma non c'è niente di non c'è niente di namek seijin namek seijin namek seijin eeeh vero eh lo spasso eh? guarda è lo spasso cosa si fa lo spasso spuzzo di merda è bagnato bravissimo Krini mostro oh infame questa l'abbiamo sentita tutta in faccia eh questo è un po' la faccia un peggio l'ho preso zio non so cosa sia successo mai eh ragazzi sto sentendo tutte le cose in faccia un po' l'ho preso un po' l'ho preso un po' l'ho preso un po' l'ho preso ora sono preoccupato eh un po' l'ho preso 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 non so non so un po' l'ho preso ma donna ragazzi SAA eh non ho preso un bel voto qua ragazzi eh non ho preso un bel voto no fermi signori direi che l'appuntamento del gioco finì qui ci vediamo al prossimo video a tappo